Signori, Mr. Hula Hope, film del 94 con Tim Robbins e Paul Newman. Le avevo dato un 8++, invece abbasso un po' il voto, perché rivedendolo onestamente ci sono troppe cose che... Non è brutto, è fatto bene, però ci sono un paio di cose un po' surreali. È carino, è carino, è fatto dai fratelli Cohen, tutto quello che volete, però non più di 7,8. È difficile che lo facciano vedere in tv, purtroppo. Un saluto a tutti, se volete iscrivetevi al canale e se volete lasciate un like. Ciao ciao!